E' bello tutti i ragazzi per voi, in questo video sono Matticevangio44 e oggi siamo su Minecraft Oggi cercheremo di portare Carl al grado 10 E sarà una misura letteralmente impossibile Perché io Carl non lo so usare Dunque raga, ci ripeto sempre E tra poco uscirà una nuova serie di Minecraft particolare Ok? E' morto Ucili tutti Carl Vabbè è morto il mio compagno Non compare Dai Ma io pulso I'm pushing Voglio muovere Ah Dai, dai, dai No Dai Sono morto Ma dai Ma dai Sitta posizione Anche perché non stavo concentrato Devo cambiare stanza Perché la c'è un casino Un casino Di Tutto stanza ragazzi Devo chiudere dentro Mystery of mystery Un casino Un casino Un casino Un casino Tra l'altro moriremo subito Perché poi qua c'è gente Dai Dai Aiutami Non c'è un casino Un casino Non c'è un casino Un casino E' un casino c'è scemo allora ragazzi la partita perderemo ancora al 100% c'è c'è no 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 voglio morire c'è comunque ragazzi trovo soltanto brawler off camera mio cugino un giorno dai apro queste 2 case queste 3 case queste 4 case le apro all'ultima cassa con camera quindi ragazzi non è colpa mia se trovo tutti i brawler qua non si può per contare non allora facciamo il romano malo mamma devo ucciderlo io carlo perchè i miei simili si ammazza sempre sono morto male ma questo c'ha bombe voglio morire voglio morire che connessione schifosa che non trovo che connessione schifosa che non trovo che connessione schifosa che non trovo dai raga buono contro finale ok due lanciatori un lanciatore dai raga possiamo vincere da possiamo vincere sì 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 oh ragazzi l'ho fatta solamente io l'ho fatta 4500 coppe secondo raga vorrei precisare una cosa quando io ho iniziato a fare i video su youtube quando io ho iniziato a fare i video su youtube avevo 1200 coppe e erano arrivate da pochi punti strenuari ora che c'è passato almeno un mese su 4000 coppe nani vabbè però c'ho merdato tutto il giorno comunque vorrei precisare una cosa mi sa che da oggi si farà un giorno sì un giorno no di video perchè in questa settimana cioè da domani non farò un video per come ho detto una settimana perchè sono in vacanza madonna il mio amico si può uccidere tecnica vuoi sicuro di prenderlo con una tecnica ok una volta il tuo sito sono mortis grindara groom ok lo metto c'è ultimo al centro non è vero perchè muoio dai ma che puscia il mio bo con zero power up cioè ma dai ma almeno vai ti a nascondere non pusciare con zero power up pochocino sette maron maron io non sono lanciatore che non posso fare niente non no lo trinco siamo in un panino e non abbiamo paura per non uscirne forse io riesco a scappare ok se si scontrano con ok si stanno scontrando con l'altro film buono buono oh no sono morto no 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 mi sono tenuto la ulti perchè raga non ci sovevo che morivo e poi non mi serviva niente siamo letteralmente mortis scappa ma perchè non è scappato prima sto nabo si scappava prima e avevamo vinto perchè io sono la ulti pronta oh dio cioè non si può giocare così non si può c'è c'è a 4 mila no ho questi nabbi io non me li voglio giocare sono chiuso in un panino il panino il panino il panino il panino il panino non parlo nemmeno non parlo raga nemmeno ho un campagno almeno me lascio lo prendi proprio va bene il panino ma pucia con me mario ro oro oro come cavolo si dice c'è buono state buona piper piperina il panino va bene va bene come spiegare la ulti io sono letteralmente morto non ho power up zitti piano piano mi metto sono morti sono morti sono morti sono morti ma sai ma sai ma non non ce la posso fare ma diciamo raga l'ultima cassa e poi chiudo perché voglio morire in santa pace come vi ho detto cinque giorni non ci sarò su youtube perchè sto in vacanza a divertirmi ok vediamoci questa cassa c'è un corvo ci possiamo ammazzare ci possiamo ammazzare easy ammazzare easy perchè intendo che ha poca vita non è che è facile da passare sono morto sono morto non mi ha giravato per un millimetro come una maldita e come una maldita facciata così alla la! 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 ciao ragazzi